Hai mai sentito parlare di gioia e dolore che si intrecciano in un singolo momento? Oggi abbiamo una storia che tocca il cuore. Resta con noi. Come si affronta una grande perdita e una grande gioia quasi nello stesso momento? Arianna Rapaccioni ci mostra come. In una giornata che si preannunciava come qualsiasi altra, Arianna Rapaccioni ha condiviso una notizia che ha colpito profondamente il suo cuore. Attraverso un post su Instagram ha annunciato la perdita del suo amato padre, descrivendo il dolore di un altro pezzo del suo cuore che se ne va. Questo annuncio è stato accompagnato da una foto molto significativa del giorno del suo matrimonio, dove suo padre l'accompagnava all'altare, sottolineando la profondità del loro legame. Ma non tutto è dolore nella vita di Arianna. Sei mai stato in una situazione simile dove gioia e dolore si sono intrecciati? Raccontaci la tua esperienza nei commenti qui sotto. Recentemente, durante un'apparizione nel programma Verissimo, sua figlia Virginia Mihailovic ha condiviso una notizia lieta. È incinta del suo secondo figlio e ha già raggiunto il quarto mese di gravidanza. Non perderti nemmeno un momento. Abbonati ora per accedere subito a contenuti esclusivi che ti lasceranno a bocca aperta. Clicca e unisciti alla nostra community. Questa nuova vita in arrivo si chiamerà Leone Siniscia, un omaggio evidente al nonno perduto. Virginia, insieme al compagno Alessandro Vogliacco, difensore del Genoa, attende con gioia l'arrivo del piccolo, dimostrando come la vita possa portare gioie immense anche nei momenti di grande tristezza. La vita è un continuo alternarsi di emozioni e oggi Arianna Rapaccioni ci ha ricordato proprio questo. Questo è tutto per oggi. Grazie per averci seguito. Continuate a riflettere e a cercare la vostra verità. Alla prossima! Grazie per averci seguito.